Ero in live quando ad un certo punto mi arriva una chiamata anonima, decido di rispondere e... Buonasera Ma chi siete voi? Cosa? Non si capisce niente, mi spiace Una cosa seria, ok, ditemi No Chi è tua sorella? Sara Chi la conosce Sara? Ma chi la conosce Sara? La mia... Va bene, io ti aspetto Anche se non capisco il perché Io ci ho provato con tua sorella, ma... Boh, ma stai male? Cioè, prima di tutto, dimmi chi sono io Ok Io non ci ho provato con nessuno Ok Ma se io sto sempre... Allora, aspetta, primo oggi sono andato a Roma, quindi non è possibile oggi Secondo, io sto tutti quanti i giorni chiusi in camera mia, quindi non so proprio che cosa... Che cosa... Cioè, non... Mi spiace, ma... Cioè, se vuoi fare a botte io ti aspetto, però non... Non ne vedo il motivo Mi te crea di botte? Eh, va bene, vieni Ti aspetto Anche se non ho fatto niente, ti aspetto Eh? Ma in teoria... Mi sono fatto bocciare io Ma che ne so, i per le assenze, ma non... Ma che... Cioè, ma che ti frega a te? No, aspetta, devo farlo sentire il live, sta roba, perché... Se no, non ci credo Cioè, ma che... Che c***o è da me? Eh, mandami, forza Sì, sì, certo, io so stupido Sì, certo, io so stupido Sì, io so così stupido da provarci con uno che manco conosco Ma se mi chiamate col privato e vicende che sei Ma stai guardando la live, scusa Ragazzi, un secondo Devo uscire un attimo di casa Perché mi sto imparando Se permettete Scusate Ma che c***o sei? Che c***o vuoi la mia? Ma hai detto tutti i giorni che sbringavano la mia? No Ti ho provato la caturella E io ho portato me la casa che me la troppo Ah, non rispondi più, eh? E allora Sapete chi è mia madre? E' venita masca sto c***o a me Ma che c***o dici? Ma che c***o c***o ci provo secondo te Sì, sappiamo Abbiamo tutto Abbiamo tutto Tazza, c'è gli investigatori qua Tirò di più, frate Me la so pure Tu parli di tua sorella Vabbè? Cioè, ma che c***o sei? Almeno abile parli di chiamarmi con il numero normale E non con il mio privato Ma che c***o vuoi? Questo finisce su YouTube Questo finisce su YouTube Non ci credo Si è assaccato Perché si è messo paura Questo si è messo paura Ragazzi Si è messo paura No, io non ci posso credere Cioè, nel senso Ma Me vuoi scassare le botte Scassami le botte Che c***o ti devo dire Boh Ma io non capisco Cioè, ragazzi Scusatemi tantissimo Per l'interruzione Però Cioè, capite pure voi, no? Questa gente qua È Matta Sette persone in live La madonna Wow Wow